La questione doppia figliazione tiene banco e i tifosi del nucleo 2000 con striscioni e cori difendono la società biancazzurra. La partita di oggi non aveva alcun valore in termini di classifica per il San Marino, ce l'aveva e come per gli abruzzesi che con un risultato positivo avrebbero evitato i play-out. L'atteggiamento della formazione di Montani non è esattamente quello di una squadra con il coltello tra i denti e il San Marino ne approfitta con un 1-2 terrificante tra il sedicesimo e il ventesimo. Prima Nappello approfitta di una respinta corta di Cannella su tiro di Gadda per mettere in rete da pochi passi. Poi è Tommaso Guidi con una bella conclusione da fuori area a portare il Titano avanti di due e San Nicolò nei guai con il vantaggio contemporaneo dell'Agnonese. Nella ripresa Bardeggia ha la palla per chiudere definitivamente i giochi, Cannella respinge in angolo, successivamente arriva il gol della speranza per gli abruzzesi con il tocco di testa sotto misura di Giampaolo. Ci sarebbe il tempo per raddrizzare la situazione ma è Nappello con la sua doppietta personale a spingere definitivamente il San Nicolò ai play-out. Il San Marino chiude a 51 punti frutto di 15 vittorie di cui 5 in casa e 10 fuori, 6 pareggi e 13 sconfitte e un futuro. Tutto da scrivere al San Marino Stadium. San Marino batte San Nicolò Teramo 3-1. Sono convinto che questo gruppo qui è un gruppo che si è speso molto da quando io sono arrivato. Ha cercato in tutti i modi di arrivare all'obiettivo dei play-off che era un obiettivo magari iniziale che la società si era data. Io però a loro devo fare sicuramente i complimenti perché hanno dato tutto quello che potevano dare. In certe situazioni probabilmente ognuno di noi ha commesso degli errori che ci hanno magari un po' pregiudicato tutto questo finale di campionato. E poi anche un po' senza stare a guardare a delle scuse siamo stati anche un po' penalizzati dalla sfortuna perché abbiamo perso giocatori importanti in un momento importante della stagione che ci ha un po' pregiudicato per tutto il cammino. Si è parlato molto Medri in questi ultimi dieci giorni di situazioni extra calcio, burocratiche. Qual è l'opinione che ti sei fatto su questa diatriba tra fredder calcio e San Marino calcio? Mi dispiacerebbe se tutto questo dovesse finire oppure avere dei risvolti diversi da quelli che ci sono attualmente. Io credo che questo sia un ambiente dove ci sono grandi strutture. Spero almeno che questa diatriba porti a una nuova soluzione, che sia una soluzione di continuità, che sia una soluzione che porti dei benefici sia alla federazione che a San Marino calcio perché io penso che questa realtà qui possa sicuramente fare anche di più. L'ha fatto per tanto tempo e è chiaro che ci vuole un po' di programmazione, ci vuole un po' di volontà da parte di tutti per poter poi magari ambire a qualcosa di più importante. Purtroppo l'approccio non è stato dei migliori. Quei due gol ci hanno tagliato le gambe. La squadra ha sentito oltremodo la posta in palio e purtroppo è andata male. Ci corciamo le maniche e andiamo a fare i play-out. Circolano voci che il presidente sarebbe molto arrabbiato? Beh, sicuramente ha le sue ragioni perché insomma ci credevamo tutti. Adesso è il momento di ragionare, tenere i nervi saldi perché questa è una possibilità che c'era quella di play-out e quindi ci mettiamo giù, abbiamo tempo per ragionare, tra due settimane faremo questa finale.